Ripercorrere i canti della Divina Commedia, accompagnati dalle armonie austere dei canti gregoriani. Con una serata speciale di poesia e musica sacra, a Sora, in provincia di Frosinone, si sono concluse, in piena atmosfera natalizia, le celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Una lezione magistralis tenuta dal professor Marcello Carlino, con l'accompagnamento del coro dei monaci dell'abbazia di Casamari, nella suggestiva cornice della Basilica Cistercense di San Domenico. Luoghi della ciociaria che conservano un profondo legame con la tradizione religiosa medievale e quel patrimonio di inni, canti e salmi penitenziali fissati nell'opera di Dante direttamente dalla tradizione liturgica del suo tempo. Sia il purgatorio che l'inferno sono accompagnati davvero da una colonna sonora e in questo senso il canto gregoriano è, come dire, questa musica di sottofondo che di così ascolta e che peraltro l'ascoltatore, perché ai tempi di Dante si ascoltava la commedia più che leggerla naturalmente, beh, che l'ascoltatore immediatamente poteva legare a qualcosa di conosciuto. Soddisfazione è stata espressa anche dal Centro Studi Sorani, promotore del calendario di eventi nella cittadina Volska. Noi abbiamo cercato soprattutto di condividere l'esperienza di questa rilettura dantesca, per il resto il nostro viaggio è iniziato nel 2017, abbiamo puntualmente pubblicato sei saggi, cinque di carattere più esplicitamente critico letterario, l'altro di carattere storico e già questo è un contributo che a mio parere lascia già un segno.